Il lotto e lotterie di Aruba junto con Raspa e Gana sta introduzione in campagna nuovo cammino in Andaduna e Pueblo di Aruba l'opportunità di gana premio non te con 100.000 florini e da conoscere nel mesmo momento la campagna di più grande che è che ti ofreste con uno con una suma di 1 milione 260.000 florini Goltros ha un total di premio non cash pagano di 1.260.000 florini che può raspar e ganare instantaneo Goltros costa 10 florini e ha due premio maiore di 100.000 florini cada uno che può ganare instantaneamente E l'Ega Goltros sta formando parte della famiglia di Raspa e Gana che ha una gran variazione di l'Ega per brindare Tore gente e tore gusto Vento che a VEGAT non si lanza un campagna che sta by fu, ronti e a VEGAT di Goltros che qua va per gana e faccansi di bossogno e faccansi di bossogno a valore di 10.000 florini Pagano partecipare Pagano partecipare a VEGAT di Goltros e a VEGAT di Goltros e lo sa che è felice ganador dia 30 di novembre Pagano partecipare a VEGAT di Goltros